Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse Pace a voi! Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Dicendo questo mostro loro le mani e i piedi, ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse Avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro Così sta scritto Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Parola del Signore In questo tempo di Pasqua, come abbiamo visto anche domenica scorsa, la liturgia ci fa ascoltare le manifestazioni di Gesù risorto ai suoi discepoli e quella che ci racconta Luca oggi è particolarmente bella e interessante. Il Signore si fa vedere, si mostra in mezzo ai discepoli riuniti che accolgono i due di Emmaus che tornano dicendo abbiamo visto il Signore e come lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane. E mentre sono lì che accolgono gli uni la testimonianza degli altri, Gesù stesso compare. e la gioia è talmente grande e la impossibilità dell'evento di vedere un morto che torna in vita, anzi che entra in una vita diversa, che passa attraverso i muri, che entra in una dimensione a noi totalmente sconosciuta, è talmente grande che rimangono tutti, diremmo bocca aperta, ma anche increduli, stupefatti, dubbiosi. e Gesù deve dire non sono un fantasma, non sono un fantasma, Gesù non è un fantasma, non è una leggenda, non è una favola, non è un'invenzione, non è un'idea e si fa dare un pesce, una porzione di pesce arrostito. Più volte Gesù mangia il pesce, si vede che gli piaceva e questo gesto così umano, così casalingo, domestico, del mangiare, dello stare insieme, del condividere il cibo, diventa il segno con cui loro lo riconoscono. Però non basta vedere Gesù che mangia il pesce, ci vogliono sempre le scritture. Dice ancora il Vangelo, aprì loro la mente per comprendere le scritture e prima Gesù aveva detto, bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, che sono le tre parti in cui si divide la Bibbia ebraica, quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento. Cioè è solo la parola della scrittura che ci permette di riconoscere i segni della presenza del risorto. Più apriamo il cuore alla parola di Dio, più la amiamo, più la studiamo, più ci entriamo dentro, più la teniamo nel cuore e soprattutto più la mettiamo in pratica, più ci accorgeremo, più toccheremo i segni con cui Gesù risorto, Gesù vivo, una persona autentica, non un'idea, non un fantasma, sta camminando insieme con noi nella nostra vita. E allora la conversione e il perdono dei peccati saranno una realtà vera anche per ciascuno di noi, lo sono già, ma devono crescere. Conversione della vita e perdono dei peccati, perché è dalla misericordia sperimentata, è dal sentirci peccatori perdonati che nasce il desiderio di vivere come Gesù. È il cammino che anche la Pasqua ci propone. Buon cammino. Buon cammino. Grazie a tutti.